Stratrendi che cosa? Bella che è la vostra ma la mia è più bella però. Devo ringraziare... No, non devo ringraziare questo qua. Devo ringraziare il signor Gigi Poppa che io penso sia anche qui stasera che Strasentini ci fornisce i occhiali e il magneto. Grazie, grazie Gigi. È là in fondo. Però una star come me annunciare queste cose qui da festa dalla pagola. Audi grigia. DG. DG. Sono tutta fissionosa. DG 693 GF guardia di finanza. Presumo da spostare o è uno che cerca la macchina così? Si è smarrita un Audi grigia. Va bene. Spostare immediatamente la macchina se no ci pensano quelli che sono venuti qui a fare lo scempio martedì che la fa trovata a Cetocca. Cosa c'è adesso Guidone? Quella che ci piace a Mauro questa. Mauro! Prova scusa eh! Gli altri in silenzio. Guidone e Mauro! Fatemi l'inizio di questa canzone e voglio vedere se capisco quello che cos'è. Tu vuoi niente Rai eh! Mi pianta lo so... Abbiamo parlato! da tua parte, tu hai una più fatica e dal punto cambierai il sottopunto no, sei che bisogna di chiudere per voter c'è niente dai, dai, dai trombetta, dai, bene, brava la nostra milli, la lasciamo andare e lascio che non sottopume che nonnosi sa l'accia il yritro sessio seri sarit il rincu thing sa spi la rim c'è nulla 이자 i si s해� Visto se sta e inattente di questo senso dal finestre ina e la stessa che sa stava avicodata ma la mia città il caudano e mi donisce ma 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 Grazie per la visione 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 Grazie per la visione